Leo I primi giorni furono i peggiori. Leo dormiva su un letto di teli sotto le stelle. La notte faceva freddo sulla spiaggia perfino d'estate e Leo si accendeva il fuoco con i resti del tavolo da pranzo di Calipso. Quelle fiamme lo tiravano un po' su di morale. Di giorno camminava lungo il perimetro dell'isola senza però trovare niente di interessante. Soltanto spiagge e mare a perdita d'occhio in ogni direzione. Tentò di mandare un messaggio iride attraverso gli arcobaleni che si formavano sulla spuma del mare ma senza risultati. Non aveva nemmeno una dracma da offrire e a quanto pareva alla dea iride non interessavano dadi e bulloni. Addirittura non sognò nemmeno, cosa strana per lui come per qualsiasi semidio. Perciò non aveva idea di cosa succedesse nel mondo esterno. I suoi amici si erano liberati di chione. Lo stavano cercando o erano salpati alla volta dell'epiro per portare a termine la missione? Non sapeva neanche cosa augurarsi. Il sogno che aveva fatto su Largo 2 finalmente aveva senso, quello in cui la striga cattiva gli aveva imposto una scelta. Buttarsi giù da una scogliera in mezzo al nulla o calarsi in una galleria buia dove sussurravano voci spettrali. La galleria doveva rappresentare la casa di Ade, che a questo punto Leo non avrebbe più visto. Lui aveva scelto la scogliera, precipitando giù dal cielo in quella stupida isola. Solo che nel sogno aveva avuto la possibilità di scegliere. Nella vita reale, no. Chione lo aveva semplicemente strappato da Largo 2 e scagliato in orbita. Non era per niente giusto. La cosa peggiore dell'essere bloccato lì? Stava perdendo il conto dei giorni. Si svegliò una mattina senza ricordarsi se fossero tre o quattro notti che dormiva Ogigia. Provò a chiederlo a Calipso, ma lei si limitò a scuotere la testa. Il tempo è strano qui. Fantastico! Per quanto Leo ne sapeva, nel mondo reale era già trascorso un secolo e la guerra contro Gea era finita, nel bene o nel male. O magari era arrivato Ogigia da appena cinque minuti. Avrebbe potuto trascorrere lì tutta la vita, nel tempo che gli amici su Largo 2 impiegavano a fare colazione. In entrambi i casi doveva andarsene. Calipso cominciò a provare un po' di compassione per lui. Inviava servi invisibili a lasciarli ciotole di spezzatino e calici di sidro ai bordi del giardino. Gli spedi perfino dei vestiti nuovi, semplici pantaloni e magliette di cotone che doveva aver tessuto lei stessa al telaio. Gli stavano talmente bene che Leo si domandò come avesse fatto Calipso ad avere le sue misure. Forse aveva semplicemente usato il modello di base per gli... sgorbi mingerlini. In ogni caso, Leo fu contento di avere abiti nuovi, perché i suoi erano puzzolenti e bruciacchiati. Di solito riusciva a evitare di bruciarli quando prendeva fuoco, ma doveva concentrarsi. A volte al campo mezzosangue, se non ci pensava, mentre lavorava con il metallo alla fucina, guardava giù e si rendeva conto di avere tutti i vestiti inceneriti, tranne per la cintura degli attrezzi e un paio di mutande fumanti. Piuttosto imbarazzante. Nonostante i regali, la dea si rifiutava di vederlo. Una volta Leo fece capolino nella grotta e lei cominciò a urlare e a lanciargli pentoli in testa. Sì, Calipso era sicuramente pazza di lui. Leo finì per piantare un accampamento nei pressi del sentiero, dove la spiaggia incontrava le colline. Così era abbastanza vicino a Calipso da raccogliere i pasti che gli lasciava, ma lei non era costretta a vederlo e a prenderlo a pentolate. Si fabbricò una capanna con alcuni bastoni della stoffa. Scavò una buca per il fuoco. Riuscì addirittura a fabbricare una panca e un tavolo da lavoro con pezzi di legno trasportati dalla corrente e rami secchi di cedro. Trascorse ore e ore ad aggiustare la sfera di Archimede, a pulirla e a riparare i circuiti. Si costruì una bussola, ma il lago continuava a impazzire malgrado tutti i suoi tentativi. Leo immaginò che perfino un GPS sarebbe stato inutile. L'isola era progettata in modo tale da risultare inesistente sulle carte. Un luogo da cui era impossibile partire. Gli tornò in mente l'antico astrolabio in bronzo che aveva preso a Bologna, quello costruito da Ulisse, come gli avevano spiegato i nani. Aveva il vago sospetto che Ulisse lo avesse fatto pensando proprio a quell'isola, ma purtroppo era rimasto sulla nave insieme a Buford, il tavolino delle meraviglie. D'altronde i nani gli avevano detto che l'astrolabio non funzionava. Avevano accennato a un cristallo smarrito. Leo camminava sulla spiaggia, domandandosi perché Chione lo avesse spedito lì, sempre supponendo che il suo atterraggio sull'isola non fosse stato un caso. Perché non ucciderlo e basta? Forse la dea della neve voleva che lui restasse nel limbo per l'eternità? Forse sapeva che gli dei erano troppo scombussolati per prestare attenzione a Ogigia, e quindi la magia sull'isola non funzionava più. Era per questo che Calypso era bloccata lì e la zattera magica non compariva. O magari invece la magia sull'isola funzionava alla perfezione. Gli dei punivano Calypso mandando le uomini audaci e muscolosi che sparivano non appena lei se ne innamorava. Forse il problema era questo. Calypso non si sarebbe mai innamorata di Leo, anzi voleva che se ne andasse. Così erano bloccati in un circolo vizioso. Se quello era il piano di Chione, beh, complimenti. Era una subdola di prima categoria. Poi una mattina Leo fece una scoperta e la situazione si complicò ancora di più. Stava passeggiando sulle colline lungo un ruscello che scorreva fra due grossi cedri. Gli piaceva quella zona. Era l'unico punto di Ogigia da dove non si vedeva il mare, per cui si poteva fare finta di non essere bloccato su un'isola. All'ombra degli alberi gli sembrava quasi di essere al campo mezzosangue quando camminava nel bosco per andare al bunker 9. Saltò sull'altra sponda del torrente e quando atterrò i suoi piedi colpirono qualcosa di molto duro. Clang. Metallo. Pieno di entusiasmo, Leo si mise a scavare fra le foglie finché non vide scintillare del bronzo. Oh cavoli! Estrassi i rottami ridendo come un pazzo. Non aveva idea del perché quella roba fosse lì. Efesto gettava di continuo gli scarti dell'officina divina riempiendo la terra di ferri vecchi. Ma quante probabilità c'erano che qualcosa finisse lì? Leo trovò una manciata di cavi, alcuni ingranaggi piegati, un pistone che forse funzionava ancora e diversi fogli di bronzo celeste battuto. Il più piccolo grande come un sottobicchiere, il più grosso come uno scudo da guerra. Non era tanta roba, non se paragonata al bunker 9 o alle scorte che c'erano a bordo del Largo 2, ma era sempre meglio della sabbia e degli scogli. Leo sollevò gli occhi verso la luce del sole che faceva capolino fra i rami di cedro. Papà, se li hai mandati qui per me, grazie. Altrimenti, grazie lo stesso. Raccolse quel piccolo tesoro e lo trasportò all'accampamento. Dall'ora in poi, i giorni passarono più velocemente e con molto più rumore. Per prima cosa, Leo si costruì una fucina con dei mattoni di fango, cotti a uno a uno con le sue mani infuocate. Trovò una grossa pietra da utilizzare come base di un incudine e continuò a tirare fuori i chiodi dalla cintura degli attrezzi, finché non ne ebbe abbastanza da fonderli per creare una superficie piatta su cui martellare. Poi cominciò a sciogliere i pezzi di bronzo celeste. Ogni giorno batteva il martello sul metallo finché non si rompeva l'incudine di pietra, non gli si piegavano le pinze o non finiva la legna. Ogni sera crollava, madido di sudore e ricoperto di fuligine, ma si sentiva benissimo. Almeno si stava dando da fare per tentare di risolvere il problema. La prima volta che Calypso andò a trovarlo fu per lamentarsi del rumore. Fumo e fuoco! Batti il metallo tutto il giorno! Fai scappare gli uccelli! Oh no, gli uccelli no! Brontolò Leo sarcastico. Cosa speri di ottenere? Leo sollevò lo sguardo e per poco non si diede una martellata sul pollice. Aveva fissato per così tanto tempo il metallo e il fuoco, da dimenticarsi di quanto fosse bella Calypso. Bella in modo indisponente. Era lì in piedi, con il sole fra i capelli, la gonna bianca che le svolazzava sulle gambe, un cesto di uva e pane fresco sotto un braccio. Leo tentò di ignorare i gorgoglini nello stomaco. Spero di andarmene al più presto da quest'isola, rispose. È quello che vuoi anche tu, giusto? Calypso aggrottò la fronte. Appoggiò il cesto vicino al letto di Leo. Non mangi da due giorni. Prenditi una pausa e mangia. Da due giorni? Leo non se n'era neppure accorto, il che lo sorprese perché mangiare gli piaceva. Ma ancora di più, lo sorprese che se ne fosse accorta Calypso. Grazie, borbottò. Cercherò di martellare facendo meno rumore. La ragazza non sembrava colpita, ma dopo quello scambio non si lamentò più né del rumore né del fumo. La volta dopo, quando tornò a trovarlo, Leo stava dando gli ultimi tocchi al suo primo progetto e non la vide avvicinarsi finché lei non gli parlò da dietro le spalle. Ti ho portato. Lui trasalì e fece cadere i cavi a terra. Per tutti i tori di bronzo! Non piombarmi addosso di soppiatto in questo modo! Calypso era vestita di rosso quel giorno, il colore preferito di Leo. Cosa del tutto irrilevante. Il rosso le stava benissimo. Cosa altrettanto irrilevante. Non sono arrivata di soppiatto, replicò lei. Ti ho portato questi. Gli mostrò i vestiti che teneva piegati e appesi a un braccio. Un paio di jeans nuovi, una maglietta bianca, un giubbotto mimetico. Un momento. Quelli sono i miei vestiti, si disse Leo. Peccato non fosse possibile. Aveva bruciato il giubbotto mesi prima. Non ce l'aveva quando era atterrato a Ogigia. Ma i vestiti che Calypso aveva portato erano uguali identici a quelli che Leo indossava il primo giorno in cui era arrivato al campo mezzosangue, con l'unica differenza che erano più grandi della taglia perfetta. Com'è possibile? Le chiese. Calypso posò i vestiti ai suoi piedi e arretrò, come se il semidio fosse un animale pericoloso. Un pizzico di magia ce l'ho, sai? Continui a bruciare i vestiti che ti do. Quindi ho pensato di tesserne alcuni meno infiammabili. Questi non si bruceranno? Leo presi jeans. Sembravano pantaloni di denim normale. Sono ogni fughi al cento per cento, gli garantì Calypso. Non si sporcano e si allargeranno in base alla tua taglia, nel caso tu diventassi un po' meno mingerlino. Grazie. Leo avrebbe voluto sembrarle sarcastico, ma era sinceramente colpito. Lui sapeva fabbricare un sacco di cose, ma degli indumenti ignifughi e autopulenti no. E così hai fatto una coppia esatta dei miei vestiti preferiti. Hai lanciato il mio nome che so su Google o roba del genere? Calypso aggrottò la fronte. Non conosco questa parola. Hai fatto ricerche su di me, spiegò meglio Leo. Quasi come se ti interessassi un po'. Calypso arricciò il naso. Quello che mi interessa è evitare di farti un completo nuovo un giorno sì e uno no. Mi interessa che tu non puzzi così tanto e che non te ne vai in giro per l'isola con degli stracci bruciati addosso. Oh, certo. Leo fece un gran sorriso. Ti stai cominciando a intenerire. Calypso arrossì come un peperone. Sei la persona più insopportabile che io abbia mai conosciuto. Ho solo ricambiato un favore. Tu mi hai aggiustato la fontana. Ah, quello? Leo rise. Era stata una riparazione così semplice che quasi se n'era dimenticato. Uno dei satiri di bronzo era girato di traverso e l'acqua non aveva pressione, per cui aveva cominciato a emettere un ticchettio antipatico, a oscillare su e giù e a sputare acqua sul bordo della vasca. Leo aveva tirato fuori gli attrezzi della cintura e l'aveva riparato in un paio di minuti. Era una sciocchezza. Non sopporto quando le cose non funzionano bene. E le tende all'ingresso della grotta? Il palo non era dritto. E i miei attrezzi da giardino? Ho soltanto arrotato le cesoie. Potare le viti con una lama non affilata è pericoloso. E la potatrice andava oliata alla cerniera e... Oh, certo, commentò Calypso, imitando piuttosto bene la voce di Leo. Ti stai cominciando a intenerire? Una volta tanto, Leo rimase senza parole. Vide che a Calypso scintillavano gli occhi e capì che lo stava prendendo in giro, ma senza cattiveria. La ragazza indicò il tavolo da lavoro. Cosa stai costruendo? Ehm... Leo guardò lo specchio di bronzo che aveva appena finito di collegare tramite cavi alla sfera di Archimede. Rimase sorpreso dal proprio stesso riflesso sulla superficie lucida dello schermo. I capelli erano più lunghi e ricci. La faccia era più magra e cesellata, forse perché non aveva mangiato. Gli occhi avevano un'espressione cupa e un po' feroce quando non sorrideva, come una specie di Tarzan. Se solo Tarzan fosse stato un latino americano in formato extra small. Non c'era da stupirsi se Calypso si teneva alla larga. Ehm... è uno strumento per vedere. Ne abbiamo trovato uno uguale a Roma, nel laboratorio di Archimede. Se riesco a farlo funzionare, magari scopro cosa combinano i miei amici. Calypso scosse la testa. Impossibile. L'isola è nascosta. È tagliata fuori dal mondo da una magia potente. Neanche il tempo scorre allo stesso modo qui. Beh, qualche contatto con l'esterno dovrai pur averlo. Come hai fatto a scoprire che portavo un giubbotto mimetico? Calypso si attorcigliò una ciocca di capelli, come se la domanda la mettesse a disagio. Vedere il passato è una magia semplice. Vedere il presente o il futuro... no. Sì, beh... guarda come si fa a raggio di sole. Collego questi ultimi due cavi e... Il piatto di bronzo scintillò. Ondate di fumo si levarono dalla sfera. Una fiammata si accese all'improvviso sulla manica della maglietta di Leo, che si era tolse al volo, la gettò a terra e la calpestò. Calypso cercò di non ridere, ma stava tremando per lo sforzo. Non dire una parola, l'avvertì Leo. Lei lanciò un'occhiata al suo torace nudo, che era assudato, ossuto e striato di vecchie cicatrici che si era procurato costruendo armi. Non c'è niente da commentare, lo rassicurò. Se vuoi che quello strumento funzioni, forse dovresti provare un'invocazione musicale. Giusto, replicò lui. Tutte le volte che un motore si inceppa, mi piace ballarci intorno il tip-tap. Funziona sempre! Calypso trasse un profondo respiro e si mise a cantare. La sua voce lo colpì come una brezza fresca, come il primo fronte di freddo in Texas quando il caldo dell'estate finalmente finiva e si cominciava a sperare che il clima migliorasse. Leo non capiva le parole, ma era un canto malinconico e agrodolce, come se Calypso stesse descrivendo la casa a cui non sarebbe mai potuta tornare. Era un canto magico, non c'erano dubbi, ma non era come la voce di Medea, che faceva cadere in trance e neanche come la lingua maliatrice di Piper. Quella musica non voleva niente da lui. Faceva solo riaffiorare i suoi più bei ricordi. Quando costruiva oggetti nell'officina della mamma insieme a lei o quando se ne stava al sole con gli amici al campo. Provò una grande nostalgia di casa. Calypso smise di cantare. «Come è andata?» gli domandò. Leo si rese conto di fissarla come un idiota. «Ehm...» Si impose di spostare gli occhi sullo specchio di bronzo. «Niente da fare. Aspetta!» Lo schermo sfavillò. Gli ologrammi scintillanti si accesero nell'aria. Leo riconobbe l'area comune del campo mezzosangue. Non c'era nessun rumore, tranne Clarisse Larue della casa di Ares che sbaritava ordini per disporre i ragazzi in fila. I fratelli di Leo della casa nove correvano da una parte all'altra, fornendo a tutti un'armatura e distribuendo armi. Perfino il centauro Chirone era in assetto di guerra. Trottava su e giù lungo i ranghi con l'elmo piumato luccicante, i garresi coperti da schinieri in bronzo. Il suo sorriso amichevole era svanito, cedendo il passo a un'espressione di cupa determinazione. In lontananza, triremi greche navigavano sulla baia di Long Island, pronte a combattere. Sulle colline venivano caricate le catapulte, i satiri pattugliavano i campi, i cavalieri sui pegasi volavano in cielo, in allerta per eventuali attacchi aerei. «Sono i tuoi amici?» domandò Calypso. «Leo annui. Si stanno preparando a combattere. Contro chi?» «Guarda». La scena cambiò. Una falange di semidei romani marciava in un vigneto al chiaro di luna. Su un cartello luminoso in lontananza c'era scritto «Azienda vinicola Goldsmith». «Quel cartello l'ho già visto», disse Leo. «Non è lontano dal campo mezzosangue». All'improvviso fra le schiere romane esplose il caos. I semidei si dispersero, gli scudi caddero. I giavellotti furono scagliati all'impazzata, come se l'intero gruppo avesse appena messo piede su un formicaio amazonico. Un attimo dopo, al chiaro di luna, si videro sfrecciare due figurette pelose conciate in modo assurdo, con vistosi berretti in testa. Sembravano avere il dono dell'ubiquità. Colpivano in testa i romani, rubavano le armi, tagliavano le cinture per farli restare in mutande e coi calzoni calati. Leo non poteva fare a meno di sorridere. «Quei piccoli piantagrane sono splendidi, hanno mantenuto la promessa!» Calypso si chinò a osservare i cercopi. «Cugini tuoi?» «No», rispose Leo. «Sono un paio di nani che ho conosciuto a Bologna. Gli ho spediti a rallentare l'avanzata dei romani e lo stanno facendo!» «Ma per quanto tempo?» domandò Calypso. «Bella domanda!» La scena mutò di nuovo. Ottaviano, quella specie di spaventapasseri biondo incapace di un augure, si trovava nel parcheggio di una stazione di benzina, circondato da SUV neri e semidei romani. Sollevava una lunga asta avvolta nella stoffa. Non appena la scoprì, un'aquila dorata scintillò sulla sua sommità. «Oh no!» commentò Leo. «Un'insegna romana!» osservò Calypso. «Sì, solo che spara fulmini, stando a quanto dice Persi.» Non avrebbe dovuto pronunciare quel nome. Se ne pentì subito. Lanciò un'occhiata a Calypso e intuì dal suo sguardo la lotta interiore, quanto si stesse sforzando di mettere in ordine le emozioni in sequenze precise e regolari come i fili del suo telaio. Quello che più sorprese Leo fu l'ondata di rabbia che provò all'improvviso. Non era semplice fastidio o gelosia. Era furioso con Persi, perché aveva fatto soffrire quella ragazza. Si concentrò di nuovo sulle immagini olografiche. Reina, pretore del Campo Giove, volava in mezzo a una tempesta su un pegaso marrone chiaro. I suoi capelli scuri svolazzavano al vento. Il suo mantello viola fluttuava, rivelando lo scintillio dell'armatura. Aveva dei tagli sanguinanti sulle braccia e sul viso. Il pegaso aveva gli occhi spiritati e la bocca schiumante per la fatica. Ma Reina guardava avanti indomita. All'improvviso un grifone selvaggio spuntò dalle nubi, conficcò gli artigli nelle costole del pegaso e per poco non disarcionò Reina. Lei sguainò la spada e abbatté il mostro. Pochi secondi più tardi comparvero tre venti, oscuri spiriti dell'aria che turbinavano come tornado in miniatura solcati da fulmini. Reina li attaccò, gridando in tono di sfida. Un attimo dopo, lo specchio di bronzo si oscurò. «No!» urlò Leo. «No, non adesso! Mostrami quello che succede!» diede una botta sullo specchio. «Calipso, non è che puoi cantare di nuovo!» Lei lo fulminò con lo sguardo. «È la tua fidanzata, giusto? La tua Penelope? La tua Elisabeth? La tua Annabeth?» «Cosa?» Leo non riusciva a capirla, quella ragazza. Metà delle parole che diceva non aveva senso. «Quella è Reina, non è la mia fidanzata! Devo vedere quello che succede! Devo...» «Devo!» tuonò una voce dal terreno sotto i suoi piedi. Leo vacillò e all'improvviso ebbe la sensazione di trovarsi su una pedana elastica. «Devo» è una parola abusata. Una vorticante sagoma umana emerse dalla sabbia. Era la dea che a Leo piaceva di meno in assoluto. La signora della terra, la principessa delle fogne. Gea in persona! Le scagliò contro un paio di tenaglie. Purtroppo la dea non aveva una forma solida e le tenaglie le attraversarono da una parte all'altra. Teneva gli occhi chiusi, ma non sembrava veramente addormentata. Sulla diabolica faccia di polvere c'era un sorriso beato, come se fosse assorta ad ascoltare la propria canzone preferita. Le vesti sabbiose si muovevano e formavano pieghe che a Leo ricordarono le pinne ondulate di quello stupido mostro che avevano combattuto nell'Atlantico, Gamberzilla. Per i suoi gusti, però, Gea era più brutta. «Tu vuoi andartene! Vuoi riunirti ai tuoi amici! Ma non devi, mio povero ragazzo!» Come sempre, la voce di Gea sembrava provenire da ogni direzione. «Non farebbe alcuna differenza! I tuoi amici moriranno in ogni caso!» A Leo tremarono le gambe. Non lo sopportava, ma ogni volta che quella strega compariva, gli sembrava di avere di nuovo otto anni, di essere intrappolato nell'officina di sua madre, ad ascoltare la voce sua dente malvagia di Gea, mentre Speranza Valdesse moriva in mezzo al fuoco e al fumo, chiusa dentro il magazzino in fiammi. «Quello che non devo fare è stare a sentire altre bugie da te, faccia di terra!» ringhiò. «Mi hai detto che mio nonno era morto negli anni sessanta!» «Falso!» «Mi hai detto che non avrei potuto salvare i miei amici a Roma!» «Falso!» «Mi hai sempre raccontato un sacco di bugie!» La risata di Gea sembrava un fruscio morbido, come terra che cali lentamente da una collina al principio di una valanga. «Ho solo tentato di aiutarti a compiere scelte migliori! Ti saresti potuto salvare! Ma mi hai sfidato ogni volta! Hai costruito la tua nave! Hai partecipato a quella stupida missione! Adesso sei intrappolato qui, inerme, mentre il mondo dei mortali muore!» Le mani di Leo presero fuoco. Avrebbe voluto fondere la faccia sabbiosa di Gea e trasformarla in vetro, ma sentì la mano di Calipso sulla sua spalla. «Gea, non sei la benvenuta qui!» Calipso aveva un tono di voce severo e fermo. Leo avrebbe voluto essere sicuro come lei. Poi si ricordò che quell'indisponente quindicenne era in realtà la figlia immortale di un titano. «Ah, Calipso!» Gea sollevò le braccia, come per abbracciarla. «Sei ancora qui, vedo, nonostante le promesse degli dèi. Come mai, secondo te, mia cara nipote? I dèi dell'Olimpo si sono divertiti a farti un dispetto, lasciandoti senza nessuna compagnia, tranne questo stupido ragazzo mingerlino? O forse se ne sono semplicemente dimenticati! Perché non vale la pena perdere tempo con te!» Calipso fissò lo sguardo oltre la faccia vorticante di Gea, fino all'orizzonte. «Sì,» mormorò Gea, in tono solidale. «Gli dèi dell'Olimpo sono sleali, non concedono una seconda chance. Perché non abbandoni la speranza? Hai sostenuto tuo padre Atlante nella sua grande guerra. Sapevi che gli dèi andavano distrutti. Perché esiti adesso? Gli offro una possibilità che Zeus non ti darebbe mai!» «Dove sei stata negli ultimi trecento anni?» domandò Calipso. «Se ti preoccupava tanto il mio destino, perché vieni a trovarmi solo adesso?» Gea sollevò i palmi delle mani verso l'alto. «La terra si desta lentamente. La guerra arriva al momento opportuno!» «Ma non credere che non ti sfiorerà qui, a Ogigia! Quando io ricostruirò il mondo, anche questa prigione sarà distrutta!» «Ogigia distrutta?» Calipso scosse la testa come se non riuscisse a concepire quelle due parole insieme. «Non è necessario che tu sia qui quando accadrà!» le disse Gea. «Unisciti a me adesso! Uccidi il ragazzo, spargi il suo sangue sulla terra e aiutami a destarmi! Io ti libererò ed esaudirò ogni tuo desiderio! La libertà! La vendetta contro gli dèi! Perfino un premio! Vuoi ancora persi Jackson? Lo risparmierò per te! Lo resusciterò dal tartaro! Potrai punirlo o amarlo, come preferisci! Basta che tu uccida questo intruso! Dimostrami la tua fedeltà!» A Leo passarono per la testa diversi scenari, nessuno dei quali positivo. Era sicuro che Calipso lo avrebbe strangolato lì su due piedi, oppure avrebbe ordinato ai servi invisibili di triturarlo in un purè. Perché non avrebbe dovuto? Gea le stava proponendo l'affare del secolo. «Uccidi un ragazzo antipatico e ricevi uno bello gratis!» Calipso tese le mani verso Gea, aprendole in un gesto a tre dita che Leo conosceva dal campo mezzo sangue, lo scongiuro greco contro il male. «Ogigia non è solo la mia prigione, nonna! È casa mia! E l'intrusa sei tu!» Il vento dissolse la forma di Gea nel nulla, spargendo la sabbia nel cielo azzurro. «Leo deglutì?» «Non prenderla per il verso sbagliato, ma... non mi hai ucciso? Sei pazza?» Gli occhi di Calipso ardevano di rabbia, ma una volta tanto Leo capì che non era diretta contro di lui. «I tuoi amici devono avere bisogno di te, altrimenti Gea non avrebbe chiesto la tua morte!» «Io... sì, forse è così! Quindi dobbiamo metterci al lavoro! Dobbiamo farti tornare alla nave!» Grazie a tutti! Grazie a tutti!